Eccoci qua ragazzi, allora, 9 del mattino, sono passate esattamente 12 ore dalle parole del direttore sportivo Pradessu Sport Italia, che ieri sera era stato appunto invitato a parlare sul 60 di calciomercato, di insomma entrate e uscite, ma naturalmente doveva per forza di cose cicciare fuori la questione Dusan Vlaovic ha annunciato che le porte sarebbero state aperte a chiunque, anche alla Juventus, ma a delle precise condizioni, ovvero nessun pagamento dilazionato con prestiti stile chiesa, prestito di due anni praticamente gratuito più la dilazione dei 40 milioni per il riscatto da pagare, nessun affare alla Locatelli, quindi 35 milioni pagate in rate, ma unica rata, cash, 70 milioni o niente. Quindi queste erano le condizioni che comunque ieri sera Pradessu Sport Italia, nel suo dire o non dire, aveva stabilito. Bene, alle 21 finisce la conferenza, tutti immagino convinti che avremmo messo la Juventus con le spalle al muro una volta dettate queste condizioni, perché sì, la Juventus non ha i soldi per arrivare a fine mese, ma comunque è stata indagata per guai finanziari, per un buco nel bilancio tra l'altro, fanno fatica a pagare anche alcuni calciatori, vedi Locatelli, fanno fatica a rinnovare il contratto di Bala, eccetera, eccetera, quindi nessuno si aspettava che arrivasse alle ore 23 un'offerta ufficiale, pare, della Juventus. Io ragiono oggi su quello che dice Sky Sport e quello che riporta Sport Italia, quello che hanno detto Pedulla e Schira per adesso Romano e Di Marzio, che a livello forse internazionale sono i più riconosciuti, non hanno ancora detto nulla di ufficiale, aspetteranno ancora immagino alcune fonti più selezionate per ufficializzare l'offerta della Juventus, che sarebbero, che si aggirerebbe intorno ai 65-70 milioni, c'è chi parla di 67 più 3 di bonus, c'è chi parla di 65, c'è chi parla di 70, fatto sta che parla la Juventus abbia trovato la forza economica per acquistare il calciatore già a gennaio. Ecco, allora, per quanto riguarda la Fiorentina, un'altra volta, come succede oramai da tanti anni a questa parte, ha vinto l'aspetto finanziario su quello sportivo, mi spiego. La questione Vlaovic a livello di vendita, sapremo che sarebbe andato via una volta che era chiaro a tutti, lo aveva espresso commisso in pubblica piazza, i procuratori non rispondendo dalle telefonate, l'avevano già fatto intuire, che Vlaovic non avrebbe firmato il rinnovo, quindi andava trovata una soluzione di vendita il più agevole possibile, sia dal punto di vista sportivo della Fiorentina, ma anche cercando di, diciamo, unire l'aspetto finanziario all'aspetto sportivo. Quindi, dal punto di vista finanziario, la cosa migliore è stata fatta oggi, cioè vendere a gennaio il calciatore a prezzo, praticamente dal cartellino pieno, magari se ne poteva fare una valutazione migliore, circa 80 milioni, ma si sa che il calciatore voleva la Juventus esplicitamente. Quale sarebbe stata l'altra soluzione? Venderlo a giugno 2022 per un prezzo del cartellino sicuramente ridotto, perché il calciatore andrà in scadenza nel giugno 23 e magari a giugno 22 lo vendevi a una cifra, non dico alla metà, ma comunque a una cifra molto inferiore rispetto ai 65-70, perché sicuramente si sarebbe scatenata sia un'asta, ma a livello sicuramente inferiore a livello di prezzo del cartellino. Altra soluzione, che sarebbe stata sicuramente la peggiore e che Pradè ha ripetuto ieri sera in conferenza stampa, non voler essere la soluzione, cioè quella di perderlo a zero, praticamente tra un anno, a gennaio 23, perché il calciatore a quel punto avrebbe avuto tutto il diritto, a livello appunto della legislazione della Lega, di parlare con altre squadre per discutere un contratto con il quale poi poteva prodare in un'altra squadra. Quindi, lo ripeto per l'ennesima volta, dal punto di vista finanziario sicuramente abbiamo fatto la cosa giusta, abbiamo incassato la cifra più alta sicuramente. Dal punto di vista sportivo, beh no, sinceramente no, non abbiamo fatto la cosa più giusta, siamo andati a vendere un calciatore che finora ti aveva garantito 17 gol e che era stato a livello non solo statistico, ma anche prestazionale di peso specifico, il tuo migliore in campo, con 17 reti, poi vanno aggiunte anche per la Coppa Italia sicuramente e consideriamo che il secondo marcatore ad oggi, vuoi per magari centralità di Dusa nel progetto, è comunque il tanto vituperato, il tanto chiacchierato, il tanto discusso Cristiano Biraghi con 5 reti, se non vado errato, correggetemi poi se sbaglio. Quindi dal punto di vista anche statistico di gol di, come dicevo prima, peso specifico ti privi di un grande attaccante, indubbiamente, indubbiamente. I due campi, il finanziario e lo sportivo, fino ai tempi di Batistuta, fino ai tempi di Antonioni, torna ancora un pochino indietro, se li spartivano come percentuale 20% finanziario e l'80% sportivo, di importanza nel giocatore, nelle trattative, oggi è tutto il contrario, è l'80% il discorso finanziario e il 20% il discorso sportivo, lo vediamo come, con esempi, come quello di Dybala alla Juve, che ha da poco superato Platini, ha comunque deve tanta riconoscenza alla Juventus per averlo fatto diventare quello che è e non rinnova. Lo vediamo con Chessy, che aveva fatto molto bene all'Atalanta, è andato al Milan, poi comunque ci ha messo un po' ad abbientarsi ed è diventato ad ora uno dei comunque centrocampisti più forti, lasciatemelo dire, in Italia, ma comunque non rinnova, anche se in quel caso lì la questione è trattata molto molto bene, lasciatemelo dire, Maldini e la dirigenza del Milan stanno trattando il non rinnovo di Chessy in maniera silenziosa e in maniera molto meno sbandierata rispetto a quello che ha fatto la Fiorentina da questo punto di vista. Quindi, legittimo dal punto di vista del discorso della Fiorentina, dal punto di vista finanziario, di venderlo a 70 milioni oggi, dal punto di vista sportivo, lasciatemelo dire, è un downgrade pauroso, perché comunque, sì, si erano fatti tanti programmi verso la Juventus, si era detto che la Juventus non aveva i soldi per comprarlo, putacaso, ora, dovrebbe esserlo confermato entro la giornata di oggi, dovrebbe essere presentato, insomma, un'offerta ufficiale entro poco, perché comunque i tempi stringono e la Fiorentina comunque dovrà trovare un sostituto di cui poi parleremo. Pare che nelle ultime ore sia filtrato il nome di Cabral e che la Fiorentina magicamente abbia già fatto, nelle due ore che sono passate dalla dichiarazione di Pradea all'offerta della Juve, un'offerta anche per Cabral da 14 più 2. Ma, insomma, dal punto di vista del sostituto, sì, uno può pensare di cascare in piedi, ma secondo me si casca su un piede solo e lo faremo anche un po' traballando, perché vai, come ho detto, a cedere uno dei calciatori più forti in Serie A è probabilmente dopo Holland, Benzema, Lewandowski uno dei migliori attaccanti al mondo, ma non ci giriamo tanto intorno, lo sapevamo benissimo anche noi. Devo dire che mi dissocio, ecco, da questo punto di vista completamente con quello che è apparso intorno al Franchi con degli striscioni anche a sfondo razzista, devo dire, ecco, se ci volevamo distanziare dalle tifoserie che davano di scimmie a Kulibaly, che davano, e lo dico, spero di non essere, insomma, segnalato di zingaro, ma riporto solamente quello che dicevano le tifoserie, a Ibrahimovic o a chi altri calciatori, ecco, non ci siamo riusciti, non ci siamo riusciti nemmeno stavolta a differenziare da certi tipi di tifoserie, purtroppo. Si predica bene, ma poi alla fine si razzola male, si ricade sempre, purtroppo, nel razzista e sempre nella reazione di pancia a certi episodi. Capisco che non sia facile da digerire, capisco che poi la Fiorentina si dovrà comunque radattare completamente in un altro modo, però devo dire, e poi la chiudo dal punto di vista filosofico e passiamo dal punto di vista del campo, che oggi credo sia che la questione Vlaovic ponga una cesura netta su quello che è diventato il calcio oggi. Nel calcio oggi non esiste la filantropia, lo ripeto per l'ennesima volta, non esistono le bandiere, non esiste un progetto che includa un calciatore, cioè il calcio di oggi, il modello del calcio di oggi ha fatto in modo che certi Antonioni Bis non si possano replicare e questo è il punto, ecco, che volevo fissare durante questo discorso con voi, i miei iscritti al canale. Quindi detto questo, ecco, dal punto di vista sportivo che succede adesso? Intanto, prima cosa, la Fiorentina va avanti, non è la Vlaovicina, non è la Bernardeschina, non è la Chiesina, non è Castrovellina, non è nulla di questo, è Fiorentina, ACF Fiorentina. I presidenti vanno, i giocatori vanno, i dirigenti vanno, rimane questo, rimane lo stemma, rimane sicuramente la maglia, rimane un progetto, si spera, ma soprattutto, oltre a quei discorsi, a queste facili retoriche, deve rimanere un protagonista di quest'anno che finora ha fatto funzionare al meglio questa macchina, che è Vincenzo Italiano. Ecco, spero da questo punto di vista, che lo aveva detto, e comunque durante la conferenza stampa, durante tutte le domande che venivano rivolte a proposito del calciatore, che comunque si allenava, che continuava a dare sempre meglio di sé in allenamento, che anche in campo, in effetti, tolto il rigore sbagliato, ha sempre fatto partite sufficienti, tolto magari uno o due, ma insomma ha sempre dato al massimo. Spero che Vincenzo Italiano desista dal, o comunque resista a questa botta. Ecco, perché comunque non deve essere facile per un allenatore che, dal punto di vista tattico, ha sempre giocato con la punta di peso, comunque privarsi di un calibro 90, ecco, di un giocatore che ti fa il bello e il brutto cattivo tempo, che ti fa quasi partire sempre con un parziale di 1-0 in campo, visto anche proprio lo score effettivo di goal, non deve essere veramente facile. Credo che a livello di spogliatoi altrettanto non sia comunque la cosa più facile da digerire. Nel sistema Fiorentina, a prescindere di come andrà, verrà introdotto un nuovo attaccante, per forza di cose, quindi anche dal punto di vista di moduli, vediamo un po' cosa accadrà, perché come ho detto, Nico, per me, buon giocatore, grande stacco di testa, grandi inserimenti, grande velocità, ma come diceva Prada ieri, che suggeriva la soluzione di attaccante, secondo me non ha un grande feeling col goal e con la porta, poi lo potrà avere, ci potrà essere una reazione di moto d'orgoglio da parte di tutti, questo lo vedremo solo dopo, però ad ora, ad oggi, per come sta la situazione di un Nico Punta, io sinceramente non mi fiderei più di tanto. Ecco, io sicuramente non ho toccato tutti i punti necessari che andavano toccati in questo video, perché le cose da dire sono veramente tante. Chissà cosa succederà adesso alla Fiorentina, noi siamo attualmente, ecco dal punto di vista sportivo, poi chiude, siamo a 35 punti, in una stagione in cui lottavi per l'Europa, in una stagione in cui vedevi finalmente un traguardo, anche se non dichiarato, in una stagione in cui te la potevi giocare perché le romane sono in un periodo di assestamento con Mourinho e Sarri, potevi approfittare di questa cosa, in una stagione in cui la Juve, per l'appunto a cui vai a dare il tuo pezzo più pregiato, si rinforzerà a questo punto e con Allegri, e lasciatemelo dire, per me, ecco, Blauvi ci ha fatto una scelta a livello sportivo per lui, discutibilissima, perché io nella Juventus di adesso, ma non lo dico per invidia, non ci sarei mai andato a livello sportivo perché vediamo come gioca Allegri, ecco, da questo punto di vista te la giocavi a livello di classifica adesso senza Blauvi, vediamo, non faccio catastrofismi, però insomma ti privi di un calciatore che fa la differenza, ecco, quindi dal punto di vista sportivo, dicevo per Blauvi, non la capisco benissimo questa scelta, sicuramente la Juventus gli avrà promesso qualcosa, lo avrà in qualche modo spinto a firmare ma non vedo sinceramente, io sarei andato piuttosto a un Arsenal che sta costruendo con dei giovani, con della progettualità, seppur con tante spese, un progetto interessante, sta costruendo una squadra molto interessante con giovani come Miles Smith-Rowe, Saka, Martinelli, Tierney, tanti giocatori, Ramsdale importa un progetto di giovani, sarei andato lì piuttosto perché comunque in Premier hai un palcoscenico diverso, vediamo, sicuramente lui vorrà giocare alla Champions, il che probabilmente porterà la Juve a lottare per i primi quattro posti dopo la cessione del Serbo, però sinceramente non la capisco, dal punto di vista sportivo lasciatemelo dire ma non la capisco, ci ha lasciato tutto di stucco e su questo insomma credo che pochi l'abbiano presa diciamo con così tanta filosofia, anche se andrebbe fatto in questo modo secondo me perché, ripeto, è questo che è diventato il calcio di oggi e niente ragazzi, noi ci vediamo appena magari non verrà ufficializzato qualcosa di più ad oggi io ho fatto un video giusto per finalmente sfogarmi quasi su questa questione parlare di questa querelle, vediamo quando ci sarà qualcosa ufficiale sia dal punto di vista di uscita ma sia anche dal punto di vista di entrata perché come ho detto, i giocatori vanno, i dirigenti vanno, i presidenti vanno, le promesse e le parole se le prende il vento e qui mi raccomando ragazzi non credete a quello che dicono i calciatori, sono tutte parole di circostanza date retta a un bischero come si dice ma la maglia, lo stemma, come vi ho fatto vedere prima, rimane e rimane sempre un solo ed unico concetto che è sempre, sempre Forza Viola, ciao ragazzi Forza Viola